Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo al capitolo settimo degli Atti degli Apostoli. Stefano è stato arrestato e fa un lungo, lungo discorso nel quale ripercorre tutta la storia di Israele. In realtà noi nella liturgia leggiamo solo pochi versetti dal versetto 51, anche se oggi è la festa dei Santi Tommaso e Giacomo. Non mi ricordo più? Vabbè, due degli Apostoli. Per cui le letture sono diverse, ma io faccio la lettura consecutiva, anche se appunto ne leggiamo pochi versetti. 51. Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Anche Stefano, come abbiamo visto in queste settimane, gli Apostoli non le manda a dire, ed è molto severo nei confronti dei suoi persecutori. Voi che avete ricevuto la lecce mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. Voi che siete i detentori della parola di Dio, voi non l'avete osservata. Avete ucciso il giusto, avete ucciso il figlio di Dio, avete ucciso il Messia. Non ha paura Stefano. Stefano che è stato tra coloro che sono stati eletti per servire la carità, adesso si trova in questa situazione, imprigionato, accusato, sempre sulla falsa riga, diciamo, del processo di Gesù, ha un coraggio incredibile. Sentite qua. All'udire queste cose, essi furono furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ci rendiamo conto cosa può fare l'idolo della religione. Il fondamentalismo di ogni religione, compresa della nostra ovviamente, digrignavano i denti, sono furibondi, sono furiosi. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù, che stava alla destra di Dio, e disse Ecco, contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. I cieli si sono squarciati. Con la venuta di Gesù c'è un passaggio che ci fa vedere il mondo di Dio e Stefano lo vede. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi, si scagliarono tutti insieme contro di Lui, lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. Ecco i rappresentanti della religione, che si turano gli orecchi, lo mettono fuori dalla città e cominciano a lapidarlo. E' incredibile l'escalation della violenza che c'è in questo brano. E' incredibile come la violenza possa far parte, entrare nella religione. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano, che pregava e diceva nell'esempio di Gesù, Signore Gesù, accogli il mio spirito, nelle tue mani affido il mio spirito, Luca. Poi piegò le ginocchia, gridò a gran voce, Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Saulo approvava la sua uccisione. Nel mentre Luca comincia ad aprirci lo scenario di Saulo, che è tra i persecutori, ma intanto Stefano vive la sua morte, non volendo incolpare i suoi persecutori e dicendo, Padre, ti affido, mi affido a te e perdona loro, come Gesù. Perché? Perché quando la parola del Vangelo scende nel nostro cuore, noi, anche se in modo diverso, come dire, ridiremo Gesù a modo nostro. Vi auguro oggi di ridire l'Evangelo con il vostro volto, la vostra storia, le vostre mani, le vostre parole, non semplicemente ripetendo, ma dicendone il senso. E il senso è che è bello dare la vita. Le cose belle della giornata di ieri, ieri dopo un weekend molto molto impegnativo, è stata una giornata un po' più di riposo, però ci siamo incontrati per l'estate ragazzi e quindi ci proiettiamo, insomma, nell'estate e questo ci fa volare, ci fa sognare. Evviva! Alcuni di voi mi hanno fatto notare che non ci sono più i commenti sulla chiesa.it, ma questo non dipende da me, noi carichiamo, io carico il commento su Qumran e poi loro dovrebbero caricarlo sulla chiesa.it. Probabilmente hanno qualche problemino, ma prima o poi ci riusciremo. Ale, buona giornata a tutti voi! Grazie a tutti!